Manca un mese all'inaugurazione della rinnovata chiesa di Santimoteo a Termoli e i lavori di quello che diventerà un punto di riferimento per il turismo religioso proseguono lacrimente. Mentre scatta il countdown per l'apertura, in programma il 9 maggio prossimo, tra i fedeli cresce l'attesa di ammirare il mosaico timoteano imponente opera che abbellirà le pareti della chiesa e che sarà un omaggio unico al santo compatrono della città adriatica. Il mosaico di 325 metri quadrati e 37 metri di lunghezza è stato commissionato dal parroco Don Benito Giorgetta e idealmente è composto da pezzi donati da tutta la comunità che ha partecipato con le proprie offerte tramite un comitato che ha raccolto i fondi necessari alla realizzazione. Diverse tecniche di pittura e scultura insieme per creare l'opera che contiene anche materiali diversi, un quadro speciale con dei dislivelli e con al centro la teca con le reliquie di Santimoteo. Il mosaico ha ottenuto anche il placet di Papa Francesco che lo scorso anno ospitò a Roma proprio quelle reliquie in occasione della settimana dell'unità dei cristiani. Ai nostri microfoni l'autore è Michele Todisco della Poly Creations di San Ferdinando di Puglia. Questo mosaico racchiude la vita, la storia di Santimoteo rivisitata, rivista nel contesto termolese. Al centro abbiamo la figura di Timoteo che mi sono permesso di rivedere non in abiti diciamo romani perché lui è vescovo ma questa volta abbiamo voluto stendere un ponte con l'Oriente. Intanto è stata posticipata di un anno quindi al 25 aprile 2022 a causa della pandemia l'estrazione della lotteria solidale collegata alla realizzazione dell'opera. I possessori dei biglietti quindi dovranno conservare i ticket ancora per diversi mesi.